Buongiorno a tutti. Il mio nome è Elisabetta Girmella e sono affetta da una disabilità motoria. Parlo da Pistoia, la città dove vivo sin dalla nascita. Innanzitutto desidero ringraziare l'associazione Luca Coscioni per avermi dato ancora una volta l'opportunità di parlare di un tema a me molto caro e cioè quello che riguarda la possibilità di fare vita indipendente e autodeterminata da parte delle persone con disabilità motoria grave. Infatti già nel 2008, sempre in occasione del congresso dell'associazione Coscioni, registrai un intervento proprio sul tema della vita indipendente e lo feci in qualità di sperimentatrice del progetto bandito dalla regione toscana. A distanza di oltre tre anni, nella mia regione ci stiamo avvicinando alla tanto auspicata messa al regime di un diritto fondamentale per tutti coloro che, pur avendo una situazione di handicap grave, attraverso l'esercizio inanielabile dell'autodeterminazione unito ad un consolo stanziamento economico, possono decidere in piena libertà della loro vita a partire dalla scelta dell'assistente personale fino ad arrivare a svolgere, grazie a quest'ultimo, tutte quelle funzioni che fanno parte del vivere quotidiano, compreso il tempo libero. È importante che a ogni persona che, purtroppo, per cause di natura variabile deve confrontarsi sempre con i propri limiti fisici, sia data la possibilità di essere veramente un soggetto attivo e consapevole delle proprie potenzialità. Pertanto, auspico che le regioni dove ancora non esistono progetti di vita indipendente si adoperino a creare le giuste condizioni affinché, quanto sopra, si realizzi in tempi brevi. Grazie ancora e buon lavoro a tutti.